Corsa contro il tempo per l'approvazione della manovra, circa 3.000 gli emendamenti presentati e fa molto discutere lo stop proposto per il bonus alla cultura per i 18 anni. Beh, è una proposta, poi la valuteremo adesso in commissione, non c'è solo quella, ci sono 3.000 emendamenti, quindi non inviterei a non focalizzarci su uno soltanto di questi aspetti. Sul bonus ho fatto un ragionamento perché ci sono tante truffe e possono essere usati qui soldi per altre finalità sempre nell'ambito culturale. Più in generale c'è il senso di responsabilità che deve appartenere a tutti, soprattutto alla maggioranza, di sapere che non si possono depositare migliaia di emendamenti, sperando che possano essere anche approvati. Quindi faremo un lavoro di selezione, di riduzione di questi emendamenti, anche perché il tempo stringe e dobbiamo assolutamente garantire l'approvazione della finanziaria entro il 31-12. Il super bonus è proprio lunedì, ci sarà un riunione in Senato di maggioranza con i tecnici, ci sono tante proposte al vaglio, però c'è da superare anche il parere di conformità da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze. C'è la possibilità di rinviare la presentazione della CILAS e tutto il resto sono questioni molto complicate dal punto di vista tecnico e su cui dovremo confrontarci ancora un po'. Quello che posso dire è che la maggioranza di governo è perfettamente consapevole della complessità della materia, il super bonus però così non poteva continuare, andava trovato uno stop. Certo, fermare questa manovra, transitare verso una intensità di aiuti più bassa non è facile, stiamo cercando di farlo in una maniera meno dolorosa possibile. Ministro, un altro dei temi caldi è il rafforzamento dei controlli al confine con il tema delle riammissioni, ci sono state polemiche in tal senso anche in questi giorni? Quello delle riammissioni è una regola che vigeva già, con il Ministro Piantedosi ne stiamo discutendo, spero che il Ministro possa venire quanto prima anche a Trieste a parlare direttamente con il Sindaco, con il Presidente della Regione, con il Prefetto, sicuramente però una risposta va data. Quello che io ai tempi quando ero all'opposizione chiamavo la Lampedusa del Nord è un problema che non può essere sottovalutato, non si può dire che tanto passano e vanno altrove perché abbiamo visto che in realtà non vanno altrove, il problema comincia ad essere difficile a sostenere per le città, per Gorizia, per Trieste, per Mufalcone, per tutta l'area di confine e quindi una soluzione va data e anche quella della riammissione è una delle soluzioni di cui stiamo pensando.